Durante i controlli di ieri mattina a Santa Croce e Camerina la polizia ferma in piazza Vittorio Emanuele uno straniero e lo sottopone a verifica documentale, ma l'uomo non esibisce alcun documento, anzi inizia a fornire una serie di elementi che alimentano i sospetti degli agenti. Dopo una prima verifica negativa, la volante del commissariato di pubblica sicurezza accompagna l'uomo nei propri uffici per ulteriori controlli. Dopo il fotosegnalamento eseguito dalla polizia scientifica è emerso che lo straniero nel corso degli anni, negli svariati controlli in cui era stato stato sottoposto, aveva fornito numerosi alias. L'ufficio immigrazione della Questura, diretto dal vicequestore della Polizia di Stato, dottor Filiberto Fracchiolla, chiamata ad accertare la posizione dello straniero dalla certosina di esamina di ciascuna di queste generalità fornite, ben sette diverse identità, ha scoperto come lo straniero avesse accumulato numerose condanne e denunce per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, quali hashish ed eroina, nonché diversi provvedimenti di espulsione e trattenimento presso i vari CPR della penisola, da cui era riuscita a far perdere le proprie tracce. Inoltre è stata scoperta l'esistenza di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila, datato 14 marzo 2022, relativo ad un cumulo di pena complessiva di anni 11, mesi 4 e giorni 26 di reclusione, euro 4.200 di multe e di interdizione perpetua dei pubblici uffici, per intervenute condanne per omicidio preterintenzionale e spaccio di stupefacenti in concorso con altri. Alla parte più consistente di tale ordine, che constava di oltre nove anni, il tunisino si era già sottratto a far data dal 20 aprile 2019, come risulta da verbale divane ricerche redatto a suo carico e quindi ricercato anche in ambito Schengen ed internazionale come da inserimenti del competente servizio di cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era stato tratto in arresto dalla squadra mobile di Ascoli Piceno per spaccio di stupefacenti, commesso fra il capoluogo Piceno e la città di Fermo nel gennaio del 2015. Per tale motivo era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare presso l'Istituto Penitenziario di Ascoli, dove circa un mese dopo, per futili motivi, aveva aggredito il compagno di Cella, cangionandogli gravissime lesioni che poi lo portarono alla morte. La vittima, nel corso dell'esame utoptico, risultò avere il cranio fracassato, sette costole rotte e la milza spappolata. Un omicidio che destò un clamoroso scarpone anche a livello nazionale. Oltre all'ordine di esecuzione, allo straniero è stato notificato un ulteriore provvedimento relativo ad un procedimento per lesioni personali inferte agli agenti di polizia penitenziaria lo scorso 25 novembre 2015, quando in concorso con un altro soggetto cercava per vendetta di sfregiare al volto utilizzando una lametta che occultava in bocca, il giudice per le indagini preliminari che doveva procedere all'interrogatorio di garanzia nei suoi confronti per l'omicidio di cui si era reso responsabile. Non riuscendo nell'intento solo per il pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria che lo scortavano e a cui comunque cagionava lesioni. Per tale aggressione l'uomo era stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri nel 2016. L'odierna arrestata aveva fatto ingresso in Italia nel maggio 2011. L'anno successivo aveva fatto righiesta di asilo, non presentandosi mai alle convocazioni della competente commissione per sostenere il colloquio. Le misure cautelari a suo carico avevano cessato di avere efficace e dopo la scarcerazione si era reso irreperibile sino a ieri quando è incappato nei controlli di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Adesso si trova ristretto presso la casa circondariale di Ragusa. Nell'ambito dei controlli si è proceduta inoltre la verifica dei titoli di soggiorno di numerosi stranieri individuati nel corso della mattinata di ieri in giro nel centro di Santa Croce Camerina. Le pattuglie delle forze di polizia hanno sottoposto a controlli numerosi stranieri e per tre di questi di nazionalità tunisina accertata attraverso l'ufficio immigrazione della Questuna la condizione di irregolarità sul territorio nazionale. Sono stati adottati i provvedimenti rispettivamente dal prefetto e dal questore di espulsione e trattenimento verso il centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta.